Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Montemesola e benvenuti a questa settima e ultima serata della seconda edizione del Festival La Città dei Tre Colli, con il patrocinio del Comune di Montemesola e della provincia di Taranto. Salutiamo il nostro media partner Studio Cento che ci ha accompagnato durante queste sette serate. Questa sera ci saranno gli ultimi tre artisti, avremo Valeria Avaglio e Bimora e Piero Lucarelli Group. Facciamo un applauso per questi gruppi, signori, Piero Lucarelli. Grazie a tutti. 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 I will live and let her do it for the times that they are a change I will live and let her go I will live and let her go I will live and let her go And there's no ways I'm training But they don't understand For the times that they are a change I will live and let her go 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 I can't help it If you want to I won't help it I will live and let her go 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 I can't help it I can't help I can't help it No, 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 no I can't help I can't help it 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no I can't help it 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 I can help it I can help it Grazie a tutti.